Si interfacciavano con più persone sia per garantirsi il rifornimento che per cogestire l'attività di spaccio. Due donne sono state ritenute personaggi centrali della banda che operava prevalentemente su Favara, spacciando nei pressi dei luoghi ritenuti dal codice penale sensibili come una caserma. Lo smercio riguardava Ascisce soprattutto, ma non si disdegnava la marijuana, ma per la maggiore andava, stando a quando emerge dall'inchiesta, durata circa due anni, sviluppata dalla squadra mobile della questura di Grigento, l'Ascisce. Accertate però anche alcune cessioni, ne sono state accertate dai polizotti della Narcotici Ben 72 in tutto, di cocaina, uno spaccio che avveniva con sfrontatezza come se si trattasse di un'attività normale. L'impianto probatorio è stato ampiamente riscontrato anche dal punto di vista oggettivo, tanto con sequestro di sostanze stupefacenti quanto attraverso le dichiarazioni di persone informate sui fatti, ha spiegato durante la conferenza stampa che si è svolta in questura il sostituto procuratore Sara Varazzi. È un risultato ottenuto attraverso lo sforzo congiunto di cui ci riteniamo orgogliosi, ha detto il PM. È stata un'indagine molto laboriosa che ha permesso di accertare che vi erano dedite diverse persone. Quello che emerge dalle indagini è anche la sfrontatezza degli indagati come se si trattasse di un'attività commerciale normale. L'indagine è stata svolta sia con metodo classico che con attività tecnica. Sulla casuzza, il fulcro dello spaccio, la squadra mobile è riuscita a piazzare anche delle telecamere che hanno immortalato l'andirivieni di auto e persone. L'attività investigativa ha avuto origine quasi in materia accidentale, episodio che dimostra la professionalità degli agenti della sezione antidroga della squadra mobile. Mentre si stava cercando di bloccare un soggetto, questa persona inizia a correre e perde il cellulare dal quale riusciamo a recuperare un quadro assolutamente chiaro delle attività di spaccio poste in essere da queste ragazze, ha spiegato durante la conferenza stampa il dirigente della squadra mobile e il vicequestore aggiunto Giovanni Minardi. Abbiamo dunque avviato un'inchiesta che è stata estesa nel corso del tempo. Siamo riusciti ad identificare i numerosi fornitori di droga del tempo. Siamo riusciti inoltre a trovare a chi veniva venduta la droga. Ci sono state delle aggravanti in alcuni casi. C'è stata la gestione a dei minorenni. In altri casi lo spaccio è stato documentato nei pressi di luoghi sensibili. L'approvvigionamento della droga avveniva nella stessa Favara e a Canicatì. Ma talvolta, stando a quanto è emerso ed è stato reso noto durante la conferenza stampa, le due ragazze andavano a Palermo per fare i carichi più rilevanti. L'acquisto riguardava i panetti di hashish che nelle intercettazioni vengono anche chiamati panini, roba che poi veniva ceduta in dosi.